Proroga degli ammortizzatori sociali in deroga, soluzioni per i nove lucani che lavoravano in Calabria, ammortizzatori sociali per gli ultra 55 anni e approfondimenti su esodati e apprendisti. Sono questi punti cardine dell'intesa siglata in Regione dopo una lunga interlocuzione condotta dagli assessori Vincenzo Viti e Marcello Pittella, volta a dare sollievo alle famiglie lucane in difficoltà a causa della crisi economica e lavorativa. L'accordo prevede la proroga degli ammortizzatori sociali in deroga per il mese di aprile 2013 e assicura la proroga degli ammortizzatori sociali per tutto 2013, nell'ambito delle risorse realmente disponibili. La Regione verificherà con i sindacati la possibilità di attivare iniziative per ridurre entro la fine dell'anno la platea dei lavoratori che percepiscono gli ammortizzatori sociali mediante politiche attive del lavoro. Al termine dell'incontro, Viti ha espresso soddisfazione per il raggiungimento di un accordo, condiviso con il presidente De Filippo, molto importante, che tende ad abbassare la tensione presente tra i lavoratori.